Allora ragazzi, cosa siamo a fare qua oggi? In questi anni, in questi ultimi anni, ho collezionato le carte vintage dei Pokémon e quindi adesso posso presentarvi la mia collezione dopo tanti anni, tanti sacrifici, tante bestemmie, pacchi persi dalle poste, carte gradate e spaccate. Federico Lezidemasi, ragazzi, è il gestore della pagina Castle of Cards che si occupa di artwork, è uno che, insomma, annusa le carte come se fossero tope. Eccola! Ecco, sì, sì, vabbè, ma ormai è il moto con cui ti descrivo, è il mio maestro. Sì, 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 sì. Quindi, ah, eccoci qua. Ovviamente Fede conosce aneddoti, storia di ogni artwork perché è veramente un malato di mente, in senso buono chiaramente. Sì, 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 molto lesionato, certo. Molto lesionato. Allora, questa è la pagina leggendaria, possiamo dire. Mamma mia. Perché è una pagina che comunque coinvolge gli starter, a parte Venus Arcade di là, chiaramente c'è il Charizard. Ecco, dato che il Charizard è la carta più cercata, conosciuta, amata in tutto il mondo, ancora oggi, cosa sai dirmi? Allora, io, innanzitutto, sappiate che la carta italiana è sbagliata. Questa è una cosa che dovete sapere tutti. Ovvero, il fuoco è brillante, quando in realtà, come la versione giapponese, il brillante doveva stare dietro al fuoco. Invece hanno fatto tutto un pappone. Poi un'altra cosa particolare che abbiamo raccontato più volte, il Charizard è il Charizard monocorno. Cioè, è il Charizard. Guardate cosa faccio per voi, ragazzi. Ai ai ai. È il Charizard monocorno beta, possiamo dire, perché il secondo corno è stato aggiunto successivamente. Quindi, anche se non si vede, non si vede molto, questo è... Quindi è sbagliato in tutti i sensi, cioè, è sbagliato la carta italiana ed è sbagliato il Charizard. Cioè, è sbagliato. È il Charizard primordiale, ecco. Non si capisce bene se sia nato quello con due corna o con un corno. Questa è una cosa della quale parlavo, tra l'altro, con Umberto di Iris Pokémon, un saluto a me. Praticamente, il primo sprite in realtà ha due corna e, tra l'altro, probabilmente è fatto dalla Nishida che ha disegnato Charizard, diciamo, proprio come design del Pokémon. Però poi, probabilmente, Sugimori, diciamo, rifinendo un pochino il Pokémon, il design del Pokémon, ha voluto dargli inizialmente un corno solo. E questa caratteristica, poi, è stata ripescata per un attimo e poi subito cassata in quarta generazione. Quando si pensava, essenzialmente, alle differenze di sesso tra Pokémon maschi e femmine, si era pensato di ritirare fuori questa cosa del monocorno per il Charizard femmina. Però poi è stata cassata completamente, è stata persa di nuovo, insomma, si è persa due volte questa caratteristica. In una Cardass Jumbo si può vedere un artwork di Sugimori, dove c'è Red e Green, diciamo, Blue, che dir si voglia, che si inseguono. E c'è Green, se non erro, a bordo di Charizard, proprio lo cavalca. E Charizard è visto frontalmente, ha un corno solo. Quindi anche Sugimori l'ha disegnato con un corno solo, eh. Chissà, chissà. Peccato, comunque, peccato. Hanno ripreso, forse, il monocorno nella mega evoluzione. Forse hanno voluto fare un tribunio. Nella X-Tron, un pochino, sì. Chissà. Poi altri aneddoti, vabbè ragazzi, e ovviamente si vede che era un set beta, cioè il fatto che comunque la maggior parte degli artwork siano gli artwork effettivamente di stock di Sugimori buttati su uno sfondo neutro, che tra l'altro ci puoi dire qualcosa sugli sfondi neutri di Sugimori? Eh, questo è interessante, perché proprio di recente sono state riscoperte delle informazioni al riguardo. C'era questo grande database, che ai tempi ovviamente veniva venduto in raccolte di floppy disk, che essenzialmente conteneva una serie enorme di foto di stock, che fossero diciamo di paesaggi o magari dei lampi o dei flash. Si andava dalla foto bellissima ai piedi del monte Fuji alla cagata, tipo il flash fatto per sbaglio, però infilato comunque nella raccolta di stockoni. La Pokémon Company ben pensò di comprare questo pacchetto, insomma, questo abbonamento, e di infilare questi sfondi, magari a volte photoshopati, leggermente filtrati, come sfondi delle illustrazioni di Sugimori. Poi non sappiamo se, diciamo, li facesse, li scegliesse proprio lui, o se la maggior parte, come più probabile, fossero fatti al solito stagista sottopagato. Tra l'altro, voglio dire due robe su Mashamp, che è una carta divenuta leggendaria, perché è l'unica carta che si può trovare solo prima edizione, anche se c'è un'eccezione che vi spiegherò dopo, perché, insomma, si trovava nel deck e si trovava solo in prima edizione. Quindi, anche chi vuole collezionare a limited, tra l'altro, sì, lo sfondo di stock di Sugimori, però abbiamo anche un artwork un po' movimentato di Mashamp, cioè, ci sono vari artwork di Mashamp che si intersecano creando una sorta di movimento sismico. E quindi, chi vuole collezionare a limited, purtroppo, avrà come macchia sempre quel bollino di prima edizione su Mashamp. L'unico Mashamp non prima edizione, che tra l'altro vale un botto di soldi, purtroppo. Mamma mia. Si trovavano un mazzo particolare che davano, se non erro, in fumetteria, o comunque per farti provare a giocare a Pokémon, ed è un Mashamp con, dietro, il layout rosso, ed è il Mashamp del Trainer Deck A, perché poi c'è anche il B con Blastoise, che è un Mashamp non olografico e non in prima edizione. E a limited, è dell'unico, sì, sì, sì. Le Magie di Wizards, perché chiaramente stiamo parlando dell'universo occidentale. Tra l'altro gli italiani grandi, che hanno scelto il Cosmo All, a differenza degli americani, che scelsero le stelline. Qui abbiamo Kinebushi, da citare assolutamente, il modellatore 3D del set base e di tanti altri set. Qui dà il meglio di sé, secondo me qua c'è il famoso Ductrio, non veloce. Ah sì, perché te sei intrippato in questa cosa. Aspetta, facciamola vedere. Alla carta di Ductrio, come vedete, è liscia, c'è il modello 3D proprio basico, quello che ti insegnano forse al primo mese di modellazione 3D. Esatto. E come vedete non è peloso. Invece il Diglett, sempre fatto a Kinebushi, che troviamo dopo nella sezione delle comuni, è peloso. Quindi non si sa perché qui non abbia... Oh, sì. Perché erano troppi, erano tre test, quindi erano difficili. Troppi peli, sì sì. Troppi peli da me. C'è il Venusaur, che secondo me è il migliore dei tre starter. Madonna, sì, bellissimo. Bello, bello massiccio. E il migliore in assoluto per me, cioè non solo nelle carte, cioè nel senso è proprio il più bello dei tre starter. Ma vabbè, mi ammazzeranno. No, no, sono d'accordo, sono d'accordo. Però per me è il più bello. C'è da dire una cosa particolare su questo set, che ci sono pochissime rare dedicate ai Pokémon, ci sono più rare dedicate agli strumenti, insomma ai trainer, i cosiddetti trainer. Invece di rare c'è solamente Ductrio Dragonair, tra l'altro bellissima con l'aurora boreale dietro. È una delle poche carte, infatti se ne ha occupata Rita, che ha uno sfondo, ha un'interazione con un paesaggio, perché poi sono tutti altri di stock, con modelli 3D buttati lì. Invece Rita è l'unico che già aveva capito che per fare qualcosa in più in questi set andava creata un'interazione, bisognava fotografare i Pokémon nel loro ambiente naturale. Infatti abbiamo un Abra straordinario che vediamo dopo. Vabbè, quel Diugon bellissimo, per esempio. Molto bellissimo. Un testo realizzato in mezzo agli iceberg, è stupendo. Ecco qua il famoso Magikarp che sta per abboccare, per citare il gioco. Anche qui abbiamo un Doduo che corre nel deserto con i cactus molto bellino, abbiamo Porygon buttato lì, sempre di Kinebuchi. Porygon, no, attenzione, Porygon non è di Kinebuchi. Ah, è già, è di Makuni, è di Makuni, bravo, me lo stavo scordando. Ecco, raccontiamo chi è i Makuni perché è un personaggio della lore fondamentale, fondamentale. I Makuni era tipo un cantante, artista, pazzoide, che praticamente promuoveva i Pokémon in generale, ma soprattutto le carte di Pokémon. Le aveva promosse così tanto, era diventato così iconico nella TV, appunto, negli show pomeridiani giapponesi, che l'hanno infilato in un sacco di carte, nelle cosiddette spoof card, quindi le carte caricatura che erano molto molto popolari tra le promo giapponesi. Ma sicuramente lo vedrete anche come artista, come in questo caso col Porygon, perché oltre appunto a essere un intrattenitore, era anche un discreto modellatore 3D e faceva delle robette interessanti. Lo potete trovare nei vecchi giochi del TCG per il Game Boy come NPC, addirittura se non sbaglio era sfidabile, aveva il mazzo con gli Makunis, Doduo e tutte queste robe qui. Qua abbiamo il Pikachu, che è stato recentemente remichizzato Full Art per Gran Festa. Full Art che io sinceramente non ho apprezzato molto, però insomma, non so come la pensi te. Guarda, secondo me poteva farla meglio, il grosso problema secondo me è che il Pikachu non si distingue molto a livello di profondità con lo sponge. Bravissimo, cazzo, l'ho detto l'altro giorno, i denti. Ah, ok, ottimo. Sì, sì, ho detto la stessa perché sembra che galleggi nell'aria. Questa è una delle mie preferite di Arita, il Rattata che mostra fiero i denti che scintillano. Molto molto bellina. Ah, bisogna far vedere Dicled Pelosa, se no non ce la perdonano, sa? Ma guarda che secondo me non è sbagliata la tua teoria, eh, che magari fossero troppi da renderizzare i peli. Ah, i peli erano pericolosi, eh. Però vabbè, secondo me Kinebuchi a volte faceva delle robe improponibili, però a volte faceva dei bei lavori di design, tipo quel Voltorb. È bellissimo perché ha le scosse elettriche di due colori che dividono perfettamente a metà l'illustrazione. È veramente, veramente fico. Secondo me è una delle carte più belle di quelle che ha fatto lui. A me piaceva molto questa, Manutenzione. Mi piaceva perché mi dava un senso tecnologico, così un po' di fantascienza, il mondo Pokémon che sì, natura, boschi, prati, esplorazione. Però chiaramente per avere delle tecnologie così come le sfere Poké o la cattura, il PC di Bill, il trasferimento Pokémon, bisognava essere anche in un mondo un po' fantascientifico. E questi bracci robotici effettivamente mi davano quell'idea lì, ecco. Più vabbè abbiamo le famose energie che poi sono diventate iconiche. Iconiche. Kinebushi rivive un po' ancora oggi attraverso queste energie perché comunque si utilizzano ancora adesso. Eh sì, le ha disegnate proprio lui, i simboletti sono opera sua e poi ovviamente questo modo di vedere le energie, quindi molto basic eccetera eccetera, molto più basic per esempio delle terre di Magic. È una cosa che ha inventato lui, quindi ci sta, ci sta. Oh, allora ragazzi, ora qua devo dire una cosa. Io per completare questo set mi sono tagliato le vene perché è stato difficilissimo completare le jungle in italiano in queste condizioni in prima edizione. Perché sono veramente tutti, soprattutto questa merda, dei pali in culo. Non mi ricordo mai una sega come sapete bene, ma mi ricordo nitidamente da dove viene ognuna di queste carte perché sono state tutte un incubo. Soprattutto questa e questa, Electrode e Flareon. Allora, innanzitutto diciamo che jungle ragazzi, cioè è stato il primo set di fatto tematico, no? Che si ispirava un po' alla zona safari, ai pokemon un po' più selvaggi. Hanno voluto da subito dare questa impronta appunto tematica, quindi non solo un'altra espansione con altri mostri, come succedeva in altri casi, ma proprio un'espansione con un tema, con un'ambientazione. Che poi vabbè, a volte veniva rispettata, a volte no, c'è roba tipo Tauros che è così in una fattoria. Però allo stesso tempo l'atmosfera generale di questa giungla, di questi pokemon un pochino più selvatici, secondo me traspare parecchio. Ecco, cioè quelli che la portano avanti maggiormente sorreggono anche gli altri e magari sono un po' più debolucci. Peraltro voglio notificare, dato che in questo set si introduce ufficialmente la i- che io detesto, però vabbè la rispettiamo eccetera, però la detesto. Voglio sediarvi questo errore, che è famoso e l'ho beccato anche da piccolo. Cioè, se vedete, il baffo di Jolteon è davanti alla zampa che chiaramente è in primo piano. Da un certo punto di vista, a me dispiace che l'Aimeno abbia perso questo tratto qui, perché poi è diventata iper patinata. Fa queste robe qui con gli arcobaleni, le ondine che schizzano, cioè veramente mi fa girare le palle. Perché almeno qui disegnava male, perché disegnava male, però c'aveva un attimo di personalità, di vita. Invece adesso proprio un automa, che sì, magari i pokemon li disegna bene, eppure qua ce li sarebbe da dire tanto, però ci sono veramente iper anonimi. Vabbè, qui a Rita pisce in testa a tutti. Hai visto lo swirl vicino allo swirl della testa, del ciuffo, eh? Il ciuffone. Questa stava venduta a mille euro. Questa è bomba, è bomba. Questa è una bomba, guarda che becca. Questa è bomba, a sta bombe, a sta bombe. Claim bombette, sì sì. Claim bombette, sì sì sì. Terribile quel mondo. Vaffanculo. Allora, andiamo avanti. Oh, ecco, qui c'è la mia preferita, perché è stata la mia prima carta giapponese che ho trovato in un pacchetto. E poi soprattutto mi grabava sto piattone, perché la rendeva veramente super lucente. Bello Bigly, t'affino, guarda che meraviglia. Sì, che poi sembra uno stoccone di Sugimori, ma invece è Arita. Questo era il periodo in cui Arita ogni tanto copiava anche Sugimori, proprio pedissequamente. Guarda, guarda, almeno un graffio. Ti ci devi specchiare in questa cazzo di Olo, Dio Cristo. Poi tra l'altro, ragazzi, riveliamo il segreto del perché nei set occidentali ci sono le stesse carte, ma non olografiche. Perché la Wizards, quei buon temponi della Wizards, decisero di rimpolpare il set giapponese, che invece era privo delle versioni non olografiche. E quindi in ogni pacchetto c'era una Olo garantita in Giappone. Ha detto, ma no, troppo facile. Mettiamo anche le rare, così almeno la gente deve spacchettare di più. E hanno rimpolpato il set che è già di... Anche con queste versioni non Olo è povero, sono 64 carte. Però ecco, ti avevi tirato fuori una teoria interessante, ovvero che certi sfondi si potevano ammirare meglio. Sì, c'è tipo prendendo Clefable, secondo me a volte sono valorizzati dal fatto di non essere Olo e possiamo vederli meglio. Poi è ovvio che invece gli stocconi, oppure la roba tipo Flareon, che ha uno sfondo semplicissimo. Cioè, è ovvio che sia valorizzato invece dall'olografia e che sia molto meglio Olo. Però appunto ce ne sono alcuni che invece... Tipo questo, guardate questo spixelato. Mamma che bello. Guardate tutti i pixel, qua si deve fare tutto, guarda Fiero. Ah, tra l'altro, piccolo segreto a proposito di stock. C'è Victribel, questa è una roba veramente improponibile, qua si vede proprio lo stagista. C'è Victribel che ha lo stesso identico sfondo di, ora non mi ricordo se Nidoran Femmina o Nidorina. Identico. È la stessa giungla di Nidoran Femmina. Vabbè, magari era... vivevano vicini, non lo so. Ma sì, ma c'è la stessa liana appesa uguale, identica. È terribile, guarda. Ma una cosa bella da dire, questa è veramente bella, a parte le cazzate, è il fatto che nelle carte di Jungle si vedono degli animali. Cioè, animali veri. Per esempio, guardate l'executor che c'ha accanto. Non un Krabby, ma un Granchio. Un Granchio vero e proprio. Eccolo là. Ecco, qui secondo me l'Aimeno ha fatto un bel lavoro, per esempio. Questo Executor ci sta, secondo me. Questa cosa degli animali, che era specificata anche nel Pokédex dei giochi, perché Raichu poteva buttare giù un elefante indiano, ci faceva capire che appunto il mondo Pokémon inizialmente, almeno per volontà di Tajiri, non era un mondo a sé, ma era proprio fuso al nostro. C'è Whipping Bell che c'ha l'uccellino, per esempio. Eccolo. Che tra l'altro è bellissimo, uno si immagina anche un rapporto simbiotico, no? Tra il Whipping Bell e l'uccellino, l'uccellino che gli becca la bava, poi va a fertilizzare le cose, cioè è particolare come roba. Si viaggia molto con la mente in questo set. Poi mi piace moltissimo questo Likitun, che raccoglie la frutta. Quello è uno dei miei Arita preferiti, credo, Likitun. Abbiamo il famoso Pikachu di Stok, il secondo Pikachu delle carte Pokémon. Eccolo Nidoran con la giungla che dicevi prima. Eccolo Nidoran qui, sì. Ecco, su questo Meo c'è una curiosità, il famoso Meo Jungle. C'è una versione promo che poi vi farò vedere con l'album delle promo, che secondo me bisognerà fare una live a parte, perché ci sono talmente tante curiosità in quell'album che la metà basterebbero. Questo qua si trova anche con un bordo dorato, si trova un bordo dorato all'interno di una confezione di snack, mi pare di dolciumi. Cereali, sì, tipo una cosa così. Americano, e si poteva trovare delle carte e questo Meo è una versione speciale, che tra l'altro si può trovare a dei prezzi abbastanza buoni, ecco. Contenuti, sì. Non so se gli speculatori sono arrivati anche lì, ma mi pare di no, perché gli speculatori sono ignoranti. Eh, appunto, appunto, non la conosci. Ma come mai sono disposte le carte al contrario? Perché finisce il set e per non lasciare un buco nero ho messo le carte al contrario, che insomma armonizzano bene e ti fanno passare al prossimo set, ragazzi. E qui si frigge mia o l'acqua. Qui siamo al set di prima generazione, forse, che preferisco di più. Perché si parla di fossil, perché ci sono i tre uccelli leggendari, perché c'è Gengar, perché ci sono Pokémon cattivi e perché anche i Pokémon buoni hanno comunque qualcosa di strambo. Come ad esempio questo dito di Kinebuchi, che se... Cioè, io credo che abbia lasciato, secondo me, lo sfondo del programma di editing di... Insomma, tipo dell'accidentità. Probabile, sì, ha renderizzato proprio così, no? Con i scacchi. Però ti posso dire, a me piace questo cosa. Sì, ci sta, ci sta, ci sta. Mi piace anche il fatto che abbia solo il potere Pokémon trasformazione, cioè proprio particolare suo, molto, molto bellino. Ti dirò, a me di Fossil piace molta roba tra le non comuni e le comuni. Vediamole. Sì, e oltretutto la cosa curiosa di Fossil, ma diciamo anche in realtà di altri set, poi ci sarà questa peculiarità, è che hanno scelto di non fare Olo Golem, che anzi non è nemmeno rara, cioè proprio non comune, e hanno fatto Olo Haunter, che io capisco, i fantasmi erano pochi in prima generazione, dovevano valorizzarli, ma perché farmi Haunter Olo e poi Golem, che è di fase 2, che è un Pokémon finale, anche abbastanza iconico, no. Niente, mistero della fede, sì sì, no, teniamoceli così. Poi un set importante perché troviamo i tre uccelli leggendari, mentre nel set base c'era solo Zapdos, tra l'altro gli Stok e gli Sugimori. Casissimo. Qui invece abbiamo tutti e tre gli uccelli disegnati dallo stesso disegnatore, ovvero Arita. E poi c'è una cosa che mi piace davvero tanto, ovvero che molte delle Olo di Arita, compreso Zapdos, che ho nominato adesso, hanno questo filino argentato che circonda l'artwork. anch'esso brillante, vedi questo filino intorno all'artwork, questa cosa qui è carina, non l'ho vista in Jungle, l'ho vista solo in Fossil. È tipo una traccia praticamente, probabilmente avrà fatto la traccia bianca e quando hanno mascherato solo il Mac per renderlo non Olo, mentre lo sfondo ovviamente doveva essere olografico, si sono dimenticati la traccia, è stato un happy little accident, perché effettivamente ha fatto quell'effetto molto carino. Come se è erudito. Mmm, sì. Oh, questo è Magmar potentissimo, questo Magmar potentissimo. Questo va fatto vedere per forza. Ecco, posso fare un piccolo sfogo? Cioè Magmar nell'anime, nella prima stagione, aveva una scena meravigliosa, il combattimento con Charizard, eccetera, era il Pokémon comunque simbolo di Blaine, tutto quello che vuoi, non ha ricevuto una cazzo di Olo nei set classici. Cioè è allucinante questa roba qui, secondo me. Poi questo Slopo qui cosa vuol dire? Quanto vale questo Slopo qui? Cioè io penso che... Mamma mia. Tanaka che ragazzi, Tanaka ragazzi racconta, vabbè poi vi racconteremo, guardate che bello. Che tra l'altro Tanaka che credo questo sia il suo esordio proprio nel CG, questo Slopo, che c'era il caro Professor Bob di Pokémon Next, che salutiamo, che diceva essenzialmente che per lui sarebbe stato ancora più bello se Slopo fosse stato ancora più lontano, inquadrato proprio da lontanissimo sulla gara. È vero, sarebbe stato bellino. Sì, tanto chi cazzo se ne frega. Però qua Wizards figli... No, non voglio denunciare, però diciamo sono stati dei furbacchioni, perché... Cattivoni. Allora, in Giappone, comprando, sbustando i tre set, set base, jungle e fossil, si poteva completare il Pokédex, ok? Potevi avere tutti e 151 i Pokémon. Wizards tolse Mew, che si poteva trovare olografico in fossil, e lo distribuì come promo. Promo Lega, sia olografico che non olografico. C'è la beffa proprio. Perché ti volevano spingere ad andare a giocare alla Lega. E hanno detto, vieni, ti si dà Mew, però vieni. E lo fecero Olo e non Olo per seguire la filosofia delle Olo e non Olo di jungle e fossil. Perché abbiamo fatto questa cazzata per rimpolpare, lo facciamo anche con Mew. Ve la faccio vedere, non è facile vederlo, ecco Mew col simbolo fossil, che tra l'altro è l'artwork beta con le zampe colorate in cima. Con le calze, sì, sì, sì. Allora, qui ragazzi, ovviamente il TCG esplode, a mio parere, perché hanno imparato, diciamo, da fossil e jungle, e hanno fatto proprio una roba full tematica. Cioè, con i Pokémon cattivi, che compiono azioni riprolevoli, e comunque sono disegnati con espressioni un po' inquietanti, un po' malvagie. Quindi hanno ripreso un po' quello che si vedeva in fossil. Qua ragazzi c'è l'imbarazzo della scelta. Cioè, prendiamo il Dark Charizard, che è un artwork, tra l'altro, inedito, che ha fatto su Gimori. Originale, sì, di Sugimori, fatto per la carta. Un miracolo, un miracolo praticamente. Sì, un miracolo, perché di solito appunto venivano utilizzati i suoi stocconi per l'appunto, invece questa volta ha voluto fare proprio un Charizard Dark, appositamente per questa roba qui. E tra l'altro io mi esprimo, proprio mi voglio sbilanciare su questa cosa qui. Team Rocket non solo per me è il set Wizards più bello, ma è il set di carte TCG Pokémon più bello. Quindi io lo dico qua così, la butto all'amo. Sì, per me Team Rocket è il set più bello in assoluto. Ci sta, ci sta, ci sta. Vabbè, per esempio c'è questa roba qui che secondo me è inarrivabile, cioè la recluta Rocket dietro Dark Slowbro è proprio una bella chicca. Tra l'altro, piccola chicca appunto a proposito del Team Rocket, i Dark Pokémon sono un concept intelligente, non solo perché appunto, sai, l'oscurità, edge, tutte queste cose qui che andavano tanto in quel periodo lì, ma perché rappresentano proprio i Pokémon allevati dal Team Rocket e forzati ad evolversi prima del loro livello. Quindi essenzialmente questi Pokémon hanno rispetto alla loro controparte normale meno HP se ci fate caso, Charizard nel set base c'è 120 HP, qui c'è una 80 perché l'hanno fatto evolvere troppo presto. Però allo stesso... C'hanno i poteri Pokémon sgravati. Esatto, però allo stesso tempo c'hanno degli attacchi imprevedibili, assurdi che danneggiano gli avversari, c'è tipo Dark Vileplum che disattivava i poteri Pokémon, Dark Charizard che tirava monete infinite, cioè... No, questo è il Dark Dugtrio che ti entra dentro casa e che cita il gioco peraltro, quindi è proprio una combo straordinaria. Dark Dragonite che ha una storia molto particolare, dovete sapere che c'è una carta errore famosissima, costosissima, ovvero il Dark Dragonite con il 5 su 82, che è il suo numero di serie della Holo, che però è stato stampato non olografico, come la sua controparte non olografica, che invece è la 22 su 82. Quella versione lì è molto molto ricercata. C'è da dire anche che, a parte che ci sono per la prima volta due trainer Holo, abbiamo anche il Team Rocket, che tra l'altro è stato ristampato in Gran Festa Holo, ma più che altro io sono innamorato dell'Energia Arcobaleno. Mi dispiace ragazzi. Ma che bello. Poi è talmente grossa l'illustrazione che è proprio uno specchio olografico. Bellissimo. E sicuramente ce l'hai, però c'è quella lì promo di Lega che è proprio tutta la grossa. Per forza, per forza. Vabbè, figuriamoci. Se ne riparleremo, ora non è il momento. Non è il momento. No, non facciamo spoiler. Questo Dark Flareon lo vogliamo far vedere, è molto bello. Vabbè, Arita qui proprio la fa fuori in tutto quello che fa, però ha fatto le tre evolution dark, che sono una più bella dell'altra praticamente. Ah, c'è Dark Goldac, sì, mamma mia. Qua proprio sulle uncommon sono una più bella dell'altra, Dark Goldac. Ma poi c'è la mia preferita, è forse una delle mie cinque carte preferite in assoluto, qua in mezzo, che è Dark Prime Ape, che mi fa impazzire. Allora facciamo vedere. Schizzato. Ah, aspetta, io devo citare assolutamente Kizuki, che è un mostro. Mi piace tantissimo perché ha uno stile mega sintetico e guardate che Abra ha fatto sulla guia, che dorme, si è teletrasportato sulla guia. Questo è veramente... Però l'altro, di recente, ha fatto una sorta di tributo a se stesso e ha fatto un LGM, il Pokémon alieno, nella stessa posa identica. Ah, sì, l'ho visto. L'ho visto. Poi dopo ti devo chiedere una cosa, un parere su quel Diglett del Rocket. Secondo te? No, quel Diglett sembra un Diglett... È un Kaiju. No, no, è un Kaiju. È un Kaiju, palesemente. Però, secondo me, secondo me, quella roba lì è un Diglett che viene fuori in un playset di macchinine o comunque in un diorama. Perché, se vedi, è pieno di molle. Quindi, secondo me, è un Diglett normale che viene fuori in un giocattolo. Allora, secondo me no. Cioè, quasi, secondo me è un Diglett che spunta fuori da un diorama di un Kaiju Eiga. Ah, può essere bella come cosa. Mi piace come... Cioè, il set allestito per un Kaiju Diglett spunta lì e quindi lo vediamo come un Kaiju proprio perché nei film di mostri noi vediamo il mostro gigantesco ma in realtà è un attore in un set minuscolo. Quindi è un po' quello il principio, secondo me. Ecco, qui c'è veramente una storia molto bella su Dark Reich, la prima fuori serie occidentale di sempre. Guardate là. Questo è bello davvero, eh ragazzi? Tra l'altro è bellissimo, sì. Ah, poi ragazzi, diciamolo, quel fulmine olografico lì non è un errore. Cioè, è proprio fatto bene. Cioè, nel senso, il fulmine che non fa parte della coda di Raich è stato reso olografico a differenza del fuoco di Charizard. E comunque, la cosa bella di questo Raich appunto è che originariamente non fu approvato dalla Pokémon Company ma la Wizards di sua sponte trovando probabilmente nell'archivio di immagini commissionata da Rita quel Raich lì ha detto boh vabbè ma sapete che facciamo? Facciamo i burloni, facciamo Dark Reich e mettiamolo come fuori serie. Ok ragazzi, attenzione perché qua arriviamo al tesoro vero di questo album perché queste carte a parte rare eccezioni non sono mai arrivate in Occidente. I set Vending. Vending da Vending Machine, distributore automatico perché queste carte non si spacchettavano nei pacchetti normali ma venivano sbucciate cioè proprio spellate da delle lastre che venivano fuori da un distributore automatico e infilavi soldi, giravi la manovella, tiravi fuori la lastra e sbucciavi le carte. Infatti hanno una superficie glossy ovvero lucida perché appunto si staccavano dal... Dovevano staccarsi facilmente insomma che poi vabbè sul facilmente ci sarebbe qualcosa da dire c'è gente che ha distrutto le lastre cercando di sbucciarle quindi ragazzi prendete le carte sfuse non sbucciatele adesso nel 2021 potreste trovare delle sorprese non proprio bellissime. Bisogna dire che qua in questo set esordiscono alcuni dei miei artisti preferiti di sempre esordisce Kusube che è un mostro assurdo esordisce Comiglia porca troia esordisce Comiglia Finalmente dai diciamo il migliore artista no vabbè De uno dei migliori vabbè uno dei migliori sicuramente uno dei più iconici che tra l'altro la Pokémon Company lo tiene in grande considerazione cioè negli ultimi concorsi Illustrator lui è sempre giudice gli hanno dato un sacco di pagine nel nei vari artbook cioè nel senso non è una presa per il culo loro lo ammirano davvero e fanno bene ragazzi Comiglia è un genio vabbè la Kusube è allucinante che cazzo gli vuoi dire dai non c'è versi ma non ho nient'altro da dire Comiglia è pazzo completamente però Kusube è sto fatto che minuziosa sì 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 no più che altro li ritrae nel loro ambiente naturale ma è come se fosse davvero un safari cioè aspettate vi faccio vedere Abra il problema è che Wizards questo set in occidente non lo portò mai ma scelse degli artwork e decise di farli diventare delle promo ecco Abra questo è un Abra sul scelta un po' discutibile secondo me in realtà sarebbe stato bello perché sarebbe bastato fare un set unico con tutti e tre i set bending e aggiungerci poi delle chicchie che poi vedrete insomma vabbè quello è il Censi che ti divora l'anima meraviglioso poi ci sono anche dei trainer che non abbiamo mai visto i set regolari come la pietra lunare o il fossile ci sono state veramente delle cose brutte da perdere e poi in dei set diciamo promozionali addirittura si fecero anche delle holo vending che non hanno la superficie glossy che sono cosmolo e in questo caso i tre uccelli leggendari e mi pare anche Scyther eccolo qua questo è veramente stupendo credo sia di Arita quello lì o di Noio Kimura è di Arita è di Arita Kimura e Zapdos che secondo me è il migliore ahimè perché assorbe energia dalla centrale elettrica cioè proprio ve lo faccio vedere è proprio anche se non sbaglio Electabuzz che si arrampica sul oh no non è quello lì quello di Electabuzz che si arrampica no non è non è Zapdos è un'altra carta no no hai ragione hai ragione a metà cioè c'è Voltorb e dietro si vede Electabuzz che si arrampica sul traliccio il traliccio bellissimo sempre di Comiglia che è pazzo ve lo faccio vedere qui Comiglia veramente ha dato fondo alla sua parte più pazza quindi al grottesco al deforme Comiglia diciamo segue il primitivismo questa questa corrente artistica che più che imitare gli uomini primitivi imita i bambini essenzialmente quindi quell'ingenuità un po' naif del bambino che ritrae quello che non direttamente quello che vede per quello che è ma filtrato dagli occhi del bambino e dalle sue diciamo scarse capacità manuali e poi anche cerca una narrazione all'interno dell'illustrazione sì 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 poi ci sarà modo di parlarne però comunque qui invece era proprio sul grottesco puro cioè guardate quel machop che probabilmente sta chiedendo di morire però peraltro peraltro bisogna dire una cosa importante di queste carte ovvero il fatto che a seconda di che lastra si andava a sbucciare si andavano a sbucciare i pokemon in una particolare zona della regione di canto quindi a seconda della lastra ti andavi a sbucciare un pokemon in uno dei luoghi storici di pokemon rosso verde e blu infatti se andate a sbucciare il graveller vedete un graveller che aspetta nella via vittoria la via vittoria bellissimo questo è uno i miei preferiti quindi è una cosa veramente ganza questa qui cioè molto molto tematica allo stato puro perché andavi nel deserto viaggiavi con le lastre praticamente molto picco poi piccola curiosità che in realtà uno mi sa che l'abbiamo già passato in questo setting o meglio in questi set sono presenti alcune carte che ai tempi vinsero il concorso illustrator che poi come premio aveva il famoso pikash illustrator quindi sono illustrate da bambini di varie età mi pare il più piccolo che ha disegnato Snorlax si lui è il genio Snorlax e Polivrat e poi successivamente invece quelli un po' più grandicelli che hanno illustrato Mewtwo e Mr. Mime che effettivamente si vede che sono fatti da una mano insomma un pochino più matura Keita Takashi che salutiamo ci segue sempre perché ha fatto Snorlax come lo si vede nel Game Boy cioè dalla prospettiva del Game Boy dall'alto e Snorlax che blocca il passaggio e tra l'altro c'è una piccola curiosità che poi vabbè vedremo anzi no rimandiamola alle promo perché la versione occidentale ha sempre l'illustrazione di un bambino ma di un bambino americano qui vi faccio vedere questo cabuto che è bellissimo che viene suscitato dal fossile quello lì nostro cabuto proprio tutto quel quel tech obsoleto quasi di canto che è proprio Pocket Monsters scritto là davanti cioè mamma mia insomma questi stanno andando davanti vengono uno due e tre ci sono tutti e poi infine eccole quello che vi dicevo prima le spoof cards che ai giapponesi piacciono così tanto le carte caricaturali questa famosissima questa forse è la più famosa Oyama che appunto anche lui era un intrattenitore game designer si trovava in tutti i grandi eventi Pokémon e tuttora disegna le carte tuttora diciamo più che altro nel blocco sole e luna in ogni set c'è una carta sua bene o male tra l'altro questa carta va segnalata praticamente per forza perché è la pass card ed era praticamente la carta che ti permetteva di scambiare cadabra masioche e hunter per ottenere e Omanite anche che ti permetteva di ottenere l'evoluzione tramite scambio per corrispondenza e ti arrivava come nei giochi come nei giochi a parte Omanite che non si evolveva con lo scambio però lo apprezziamo perché ci ha regalato appunto un Oman Starolo quindi lo apprezziamo per quello mandavi cadabra con questa pass card e ti ritornava evoluto in Alakazam era una promo per corrispondenza esclusiva da Masaki e Alakazam ah le gym vabbè le gym che chiudono questo album qui ragazzi abbiamo artwork più che altro di Pokémon Blue perché Sugimori poi ha ridisegnato i Pokémon dopo Pokémon Rosso e Verde e molti degli artwork ridisegnati bene bravo con una colorazione un po' più accesa un po' più definita sono stati presi e utilizzati per fare le gym nella maggior parte dei casi poi ci sono anche dei casi eccezionali ci sono anche delle stronzate per esempio l'artwork di Rosso e Verde di Moltres che è stato semplicemente piegato leggermente e buttato qui così eccolo questo è Blaine's Moltres prendetevelo così ma che ti piace così tanto questo Blaine's Moltres io non l'ho mai capito perché c'è tanto brillante dentro e i collezionisti sono come le gazze ladre cioè fidati di me questo è l'artwork di Rosso e Verde che è stato buttato su uno sfondo apparentemente neutro in realtà la versione originale sullo sfondo conteneva un cimitero con le croci in America si è pensato di censurare perché i bambini non possono capire però la troveremo la versione ovviamente non censurata nella pagina delle incensurate che è nell'album delle promo poi tra l'altro lì c'è il Brox Onix che sta fecondando l'ovulo che è di Benimaro Ito che vabbè sicuramente ci sarà modo di parlarne in altre occasioni però era un illustratore molto particolare che faceva dei disegni super grotteschi vi ricorderete forse il Mewtwo del VHS e praticamente ogni tanto aveva l'ottima idea di mettersi a modellare in 3D magari poteva anche fermarsi un attimino ai disegni però lo ringraziamo anche per questo Onix meraviglioso volevo far vedere questo Snorrax della Yoshida che è stupendo o di Yoshida non mi ha capito 6S Ironobu Yoshida credo sia maschio comunque qui a parte rare eccezioni sono artwork di stock col solito sfondo stock sfondone terribile i trainer sono particolari perché abbiamo delle illustrazioni inedite questa qui che è stata citata anche di recente questa qua è veramente veramente bellina Brox Training Method assurdo oppure Litsuge che stringe la mano a Electabas quella è veramente eccola qua ed è una delle mie preferite in assoluto perché è proprio bello il rapporto vedere questo rapporto tra umani e Pokémon in una carta vabbè Electabas tocca delle corde particolari come al solito oh ecco qua le bestemmie va vai raccontami un po' di questo Blaine's Charizard dai tanto ormai ci facciamo odiare allora ragazzi dovete sapere che molto spesso si parla qual è il Charizard più brutto ma sarà questo qua in computer grafica quest'altro in computer grafica sì sono molto brutti alcuni Charizard in computer grafica ma io questo non lo perdonerò mai perché all'aggravante di aver rovinato un artwork bellissimo che poi è quello di Pokémon Rosso giapponese insomma della copertina è stupendo che poi è stato ripreso addirittura negli artwork dell'anime è stato spammato ovunque poi tatuaggi figurine cazzi vari però non lo so gli hanno sparato tipo il contrasto a mille o con lo strumento brucia di Photoshop gli hanno fatto quella fiammata che è ritagliata male ragazzi guardate un po' è una roba improponibile l'hanno proprio ritagliata con la bacchetta magica però appunto su una roba non scontornabile è uscita questa tra l'altro esistono due tipi di fiamme che escono ce n'è una più definita e sì esatto è una ancora meno definita ancora più sfumata che sembra proprio un ammasso di merda rossa cioè proprio brutto brutto vabbè poi che taggito fa quella fiamma boh mi sta surcazza anche sta roba vero se vuoi ti mette tutto di lato l'artwork di verde boh cioè non l'ho capita bene è insensato e questa cosa l'hanno fatta spessissimo a volte l'hanno fatta bene a volte l'hanno fatta male c'è tipo Nido King non è neanche male se non contiamo che quell'artwork lì ha come particolarità gli spuntoni sulla schiena bellissimi e ovviamente cos'è che gli hanno tagliato gli spuntoni della schiena l'unica peculiarità è la cosa che lo fa somigliare di più a Godzilla tra l'altro a Godzilla a Baragon insomma e poi c'è questo Rockets Mewtwo che ha una particolarità è l'unica carta credo del TCG Vintage che ha il rettangolo dell'illustrazione più stretto rispetto a tutte le altre carte perché ci hanno messo tre mosse è il primo che ha avuto tre mosse ecco questa è un'idea carina questo Kakuna che si sta per evolvere in vidri cioè delle idee ci sono il PJ che porta il messaggio che infatti non è di Sugimori ma di Nishida insomma ci sono delle idee o il Tangela che fa le trecce a Jinx cioè queste non sono cose brutte sono molto carine però sono eccezione nella marea di artwork di stock possiamo vedere i set gym come una sorta di enciclopedia degli artwork di Sugimori di Blue comunque ragazzi questo questa era la prima generazione regolare ovviamente niente promo di Pokémon veramente un'avventura che su cui forse nessuno scommetteva ma che come tutte le cose a marchio Pokémon poi hanno avuto molta molta fortuna nel corso del tempo secondo me il prossimo album è veramente imperdibile perché è la seconda generazione e ci sono tante cose veramente belle magari fra qualche settimana affronteremo la seconda generazione e poi chiuderemo con le promo per passare alla seconda generazione e mezzo e poi alla terza